buongiorno oggi vi presentiamo questa vettura è una vettura nuova ancora da immatricolare è una suzuki selerio è un mille un'ottima motorizzazione sia per la città che per qualche viaggetto vicino casa è una vettura adatta ai neopatentati molto spaziosa molto simpatica e molto divertente selerio tre anni di garanzia sedili posteriori sdoppiabili tenete presente che questa vettura qui non è nient'altro che la panda di giappone nella nostra qualità di multimarche tranquillamente sappiamo che è omologata cinque posti airbag passeggero disattivabili per voi mamme che trasportate in giro i piccoli ampie sedute molto comoda come interni ottimi tessuti in fondo è una giapponese e la qualità da giapponese si vede è una vettura un po più economica della fiat panda con un anno in più di garanzia ha già il sedile di guida regolabile in altezza il vivavoce bluetooth autoradio con lettore cd e mp3 climatizzatore ovviamente comandi del vivavoce al volante e una bellissima strumentazione completa le chiamano vetture razionali noi le chiamiamo vetture per tutti trasversali è una vettura che mette d'accordo tutti è l'alternativa alla panda noi siamo multimarche perciò possiamo permetterci di dirlo comunque vi invitiamo presso nostra sede per venire a visionarla e provarla sempre previo contatto telefonico così siete sicuri che la vettura sia ancora disponibile grazie